Buongiorno agli amici di Yant.it, parliamo nuovamente di sport con amici che ci vengono spesso a trovare. Prima di Natale sono venuti da noi, diciamo che offida un po' il comune che abbiamo più nel cuore per i nostri trascorsi televisivi. E stamattina sono venute le persone che sono quelli che fanno un po' i deus e macchina, possiamo dire, dell'offida sport. Marco Mantine, direttore generale del Consorzio Sportivo. E Giovanni Stracci, che è il presidente sempre del Consorzio, perché rappresenta Ciu Ciu Volley o Fida, o Fida Calcio o Fida Atletica. Sì, buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito dal presidente, presentiamo Marco. Io giustamente ci tenevo anche perché abbiamo fatto qualcosa mese di dicembre, però è giusto parlare, perché Ciu Ciu Volley sta andando bene. Il calcio un po' meno, l'atletica si aspetta il periodo estivo, però diciamo che si va avanti in maniera periodica per quello che fate, diciamo, quotidianamente. Ci sono un paio di cose, diciamo che Ciu Ciu Volley sicuramente in questi dieci anni, io sono al decimo anno di presidenza, ha fatto sicuramente molto bene. 14 campionati vinti in dieci anni, credo che in Italia non ci siano pari, partiti da zero nel 2005 con la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Offida. Nel frattempo abbiamo ideato questo Piceno International Volley Cup che era Offida International Volley Cup nel 2007 con 12 squadre. Che si svolge il periodo di Natale. Sì, il periodo di Natale e nel frattempo quest'anno l'abbiamo dovuto rinominare. Dopo Offida International, dopo Piceno International siamo sforati nel fermano per cui è diventato Marche International Volley Cup alla sua ottava edizione con oltre mille atleti. Abbiamo sicuramente realizzato una bellissima manifestazione con le premiazioni al Palazzetto dello Sport di San Benedetto del Trondo, al Palazzo Eca con oltre 3.000 persone. E quindi sicuramente questo è un bel fiore di occhiello. Ma diciamo che nel frattempo siamo arrivati in serie B2 con la maschile, Marco poi spiegherà un po' i particolari, in serie C femminile dove stiamo disputando dei bei campionati. C'è una bella sfida sabato sera, vi invitiamo tutti quanti a vedere il vertice della classifica, cioè Rapagnano che sfida a livello regionale. Siamo nelle quattro squadre più forti, si scontrano la prima del Girone Sud con la terza del Girone Sud. Quindi una partita d'Offida fra Ciucioffi da Voglio e Rapagnano da non mancare. Questo è un appello a tutti gli sportivi che amano la palla a volo. E poi il settore giovanile, fortissimo, una bella sorpresa, prima divisione con le ragazze 99-2000. Noi puntiamo moltissimo sul settore giovanile. Questa squadra che in under 16 è arrivata al secondo posto, proprio al torneo internazionale delle Marche, con la finale qui a San Benedetto. Per la prima volta, dopo 8 anni di lavoro, siamo riusciti a portare una squadra giovanissima che è disputa al campionato under 16 e la prima divisione. E quindi è oggi tra le prime quattro della prima divisione provinciale. Quindi merito a ragazzine 99-2000 che giocano con gente di 25-30 anni. Quindi insomma è una bella cosa. Per il resto devo dire che insomma il calcio non va così male, nonostante aver abbandonato solo sabato scorso l'ultimo posto in classifica in prima categoria. Capisco che il calcio è sicuramente un po' così, la cosa che si vede di più, ma è sicuramente lì dove abbiamo un grosso disperito di energie e soprattutto pochi risultati sotto il profilo della prima squadra. Si parla sempre di prima squadra, l'ottica è prima squadra, ma noi siamo settore giovanile. Abbiamo ristrutturato la società, siamo entrati con forza, abbiamo investito molto, grazie anche a Franco Ascani e ai miei soci del calcio. E devo dire che il lavoro che abbiamo svolto in questo periodo è stato sicuramente ottimale, perché abbiamo ristrutturato tutto il gruppo giovanile e stiamo andando molto bene con il gruppo allievi, juniors, eccetera. Quindi c'è un buon lavoro anche dietro. Il movimento giovanile, siamo andati a Montecatini ultimamente adesso con sette ragazzi che sono stati convocati, scelti. Ci sono delle situazioni di gioventù molto forti, tant'è vero che sabato scorso finalmente con l'inserimento adesso di Eraldo Volponi, il nostro allenatore della prima categoria, abbiamo portato in squadra cinque ragazzi della Juniors, due di questi ci hanno fatto vincere, c'è un ragazzetto 97, un coach Alessandro, che ha realizzato un gol fantastico da Cineteca. Io penso, Presidente, che anche questo è un po' il volere di molte società, perché i giovani dovrebbero essere un po' il futuro. Però lo facciamo a chiacchia, perché poi nei fatti in prima categoria ho notato dei rimborsi spese non indifferenti, noi lo facciamo nei fatti, nonostante l'ultimo posto, non mi interessa. Noi ce la giochiamo, mettiamo dentro i ragazzi veramente, lo facciamo e questi ragazzi devono avere spazio e sono convinto che nel tempo, grazie al grosso lavoro che ha fatto Peppe Ferretti, il nostro direttore della Scuola di Calcio, della Social School di Offida. Devo dire che stiamo andando molto bene, i risultati si stanno vedendo, le squadre giovanili vincono e da settembre ad oggi già si è notato un cambiamento enorme, è un anno e mezzo che lavoriamo, quindi non è che abbiamo una barchetta magica, però sono sicuro che nei prossimi anni sentirete parlare molto di Offida Calcio, settore giovanile e ragazzi che partono verso squadre competenti. Stiamo organizzando anche lì un grosso torneo internazionale e abbiamo iniziato l'anno scorso a 16 squadre, quest'anno lo ripetiamo in tre fasi diverse, 24-26 aprile per i giovanissimi, primo e due maggio, tre maggio per i piccoli amici e poi gli esordienti che è un po' il gruppo clou, 1 e 2 giugno, quindi sono tre fasi importanti con un aggancio molto importante. Devo dire che l'altra sera abbiamo fatto una bellissima serata di galà dello sport, con la consegna degli Oscar, abbiamo consegnato 36 Oscar tra calcio, pallavolo ed atletica, vi posso dire che c'era presente tra l'altro, oltre a Ivo Panichi che ringrazio per la sua presenza, che tra l'altro ci ha pure portato fortuna perché abbiamo finalmente vinto questa gara importante che ci ha tolto dall'ultimo posto in classifica, però sono convinto che c'è una grande forza espressa proprio dai ragazzi, appunto dicevo, il settore giovanile con un campo pesantissimo sono usciti veramente infarinati, interrati fino a sopra i capelli, foto bellissime di gente che lotta, che ha voglia di rifarsi. E l'altra sera, dicevo, al galà abbiamo notato questa attenzione anche di Nicola Traini, che è uno storico giocatore che tu ben conosci. Quindi non ti devo spiegare chi è Nicola Traini, ecco lui ha espresso la volontà di tornare perché ha visto questo ambiente bellissimo di settore giovanile che lui ha sempre sognato di poter guidare e noi l'abbiamo veramente invitato a tornare a casa perché il suo posto è sicuramente d'affida. Grazie Presidente, una grande panoramica, adesso nel dettaglio con Marco che segue forse più da vicino del Presidente, quelle che sono le realtà, ecco, oltre al volley però, lo stesso dice il Presidente, il calcio, però diciamo, nonostante la cittadina, però avete un bel seguito perché cercate anche di prendere su quelle che sono le realtà del circondario, giusto Marco? Sì, abbiamo un grande seguito anche nel circondario, sia nel settore della pallavolo che nel settore del calcio. Considera che nella pallavolo noi facciamo questo campionato di prima divisione con le ragazzine 99-2000 che nel calcio equivale a un campionato di prima categoria. Cioè noi lo facciamo con un under 16, il fatto che questo under 16 già sia salva punti a fare playoff per la promozione per noi è un grande traguardo con ragazzine di Offida e ragazzine della zona del Piceno, da Ascoli a San Benedetto che cercano di venire a Offida, ma cercano di venire a Offida perché a Offida c'è qualità. A Offida c'è il professor Mimmo Chiovini che è un docente federale della FIPAV che tutte le società insomma ci invidiano. A Offida c'è un'organizzazione a livello societario nel settore giovanile che nel Piceno non diciamo, non tutti hanno, c'è seguito, c'è organizzazione, tutte le squadre sono seguite da dirigenti, fisioterapisti, c'è tutto, c'è tutta un'organizzazione che le altre società ci invidiano. Lo stesso nel calcio. Nel calcio se noi andiamo a fare un esame ad esempio di tutte le squadre di eccellenza, promozione, prima categoria, anche seconda, soprattutto prima e seconda categoria. Molte squadre hanno solo la prima squadra, prima squadra juniores, prima squadra allievi, nessuno ha dalla prima squadra ai piccoli amici e noi con un pizzico di vanto possiamo dire che ce l'abbiamo. Noi prendiamo ragazzi da Castignano, Cossegnano, Ripatranzone, li prendiamo a casa, li riportiamo e questo per noi è un successo ma è anche un sintomo che le altre società riconoscono in noi comunque un sinonimo di qualità e di garanzia. Ecco, parlando anche della B, quella lì della maschile, che giustamente fa parlare non solo il territorio ma tutta la regione magica, perché non tutti si possono permettere di avere squadre in serie B. L'embreve è stata l'ultima partita, l'ultima partita abbiamo affrontato la nazionale italiana Under-19, si è andata a giocare al lago di Bracciano sul campo dell'aeronautica militare e per noi è stato già semplicemente emozionante scendere in quel campo lì contro una squadra con le maglie della nazionale italiana, aver affrontato prima Roma, essere andati a Perugia, aver battuto Perugia, cioè comunque offida a batte Perugia, non è una cosa che capita tutti i giorni. Devo dire che il giro in andata si è chiuso, siamo a metà classifica, potevamo fare qualcosina in più anche se siamo stati bersagliati da infortuni, problematiche, diciamo che la sfortuna proprio ci è seguita a braccetto però ecco nel giro in ritorno intanto l'obiettivo è fare i punti che mancano per la salvezza e poi dopo costruiamo piano piano il futuro e nella pallavolo femminile speriamo di poter essere protagonisti fino in fondo e poi vediamo quello che è. Quindi per riepilogare quello che diceva il presidente Stracci e te avete un 2015 abbastanza impegnativo con sicuramente fondamentali soddisfazioni perché sia dai giovani che dai meno giovani insomma svariare su tutti gli altri. Beh innanzitutto l'obiettivo primario è far sì che le squadre di Serie B, Serie B2, prima categoria e Calcio 5 innanzitutto raggiungono la salvezza il prima possibile perché è il primo obiettivo poi la Serie C femminile che possa essere protagonista fino in fondo poi non poniamo lipida alla provvidenza dove si arriva si arriva e per il settore giovanile continuare a crescere, provare a vincere qualche campionato giovanile perché siamo in Lizza in diversi campionati e poi abbiamo questi ultimi appuntamenti con questi tornei piccoli amici, giovanissimi, esordienti, pulcini che per noi sono una bella vetrina e speriamo che possano diventare con il tempo come il Mark International Volley Cup. L'ultima battuta poi chiudiamo col Presidente anche perché dal pur parler che c'è stato tra di noi prima di andare in onda possiamo anche dire che dopo il Carnevale saremo presenti ad Offita presso lo showroom del CiuCiu per fare una puntata di Mondo Calcio dove parleremo non solo di calcio ma anche di questa realtà che dice da noi quindi l'appuntamento a chi ci segue che faremo qualcosa anche con gli amici di Offita per lo sport. Sì mi fa piacere perché noi insomma ci teniamo molto anche a rappresentare quello che facciamo è anche questo motivo in futuro per partecipare ai tornei noi siamo come detto base dei settori giovanili per cui vogliamo collaborare sia con le federazioni settori arbitrali, radio e televisioni perché vogliamo appunto far vedere quello che facciamo in modo che ognuno poi possa scegliere la strada migliore. Volevo solo aggiungere che per quanto riguarda l'Offita Atletica abbiamo fatto partire un progetto importante e abbiamo riportato ad Offita un grande dell'Atletica che è Mauro Marselletti che ultimamente all'ultima maratona di San Benedetto si è classificato anche a secondo posto ma già i podi che stanno raggiungendo l'Offita Atletica un po' dappertutto con un grandissimo entusiasmo e soprattutto con la partenza di un settore giovanile. Abbiamo già 35 iscritti per quanto riguarda i giovani e chiaramente non abbiamo materialmente una pista completa abbiamo una mezza pista che comunque ci permette di lavorare. Devo dire che abbiamo incaricato Sergio Sergiacomi come direttore generale dell'Offita Atletica e anche lì stiamo lavorando con lo stesso obiettivo, quello di fare delle belle maratone. Abbiamo fatto quest'anno una bellissima manifestazione al primo maggio 2014 con la FIDAL. Ringrazio la FIDAL per tutto quello che sta facendo per noi sia provinciale che regionale e per quanto riguarda il 12 luglio abbiamo fatto la maratona del Serpente Aureo anche lì come prima manifestazione presa in mano dalla nostra gestione con oltre 800 atleti quindi una manifestazione importante. Quindi anche in atletica? Sì, ci siamo mossi. Devo dire che lì magari con l'atletica uno immagina sempre solo calcio. Noi vogliamo fare una cosa che sia condivisa dove i genitori possano scegliere liberamente e arriveremo anche con il grosso progetto che stiamo attivando nelle scuole in particolare la scuola di Offita ma anche Castorano e Castignano e Cosignano ultimamente dove vogliamo intervenire fortemente per i giovani e per i piccoli. Le scuole non hanno risorse, noi siamo intervenuti anche con degli importi non indifferenti perché abbiamo speso oltre 7 mila euro per quanto riguarda palloni, attrezzature per le scuole e noi siamo intervenuti nei fatti, non come ripeto a chiacchiere, noi nei fatti interveniamo e facciamo in collaborazione con le maestre e con la scuola, con i presidi. Devo dire che c'è una bellissima collaborazione e di questo ne andiamo fieri perché sicuramente nella scuola molti oggi hanno paura di fare sport, con queste nuove leggi, nuove situazioni c'è sempre questa tensione delle maestre a prendersi la responsabilità di fare sport perché chiaramente lo sport è comunque un possibile incidente, un possibile problema. Ecco, quindi c'è bisogno di massima collaborazione anche da parte dei genitori. Per cui dico che insomma facciamo un po' di tutto e a carnevale chiaramente non è che serve presentare Offida come carnevale, no? Esatto, esatto, si presenta da solo. Si presenta da solo anche perché noi siamo impegnati, a carnevale ognuno di noi, ai propri amici. Veremo dopo carnevale. Come sapete noi abbiamo dal 17 di gennaio inizia il carnevale di Offida e poi, come diciamo noi, se tutto va bene finisce col carnevale perché quest'anno è un po' più corto ma di solito, l'anno scorso ad esempio 4 marzo è stata pesante, poi ne abbiamo pagato le conseguenze perché due o tre mesi di carnevale è dura, tutti i sabati è così, quindi lo sapete. Grazie al presidente Stracci, al direttore generale Mantile, arrivederci a presto perché come ho detto saremo presenti dopo carnevale per fare questa puntata, per cercare di parlare ancora di più ad ampio raggio di sport. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Grazie.